Questa è la nostra giornalista e ci sono i quattro ipotetici Vigili del Fuoco che hanno fatto il recupero di quello che rimaneva di questi corpi straziati. Come fu il recupero delle salme? Per noi Vigili del Fuoco fu particolarmente doloroso il recupero dei corpi detrucidati a Pozzo Becca. Quando siete stati avvisati? Fummo avvertiti il giorno dopo la liberazione di Imola che nel Pozzo della Dittort Futricola Becca furono buttati dei corpi umani. Come avete recuperato i corpi? Ci organizzammo quei pochi mezzi che allora avevamo. Facevano un'impalcatura, il pozzo buttava continuamente acqua, i corpi materiali venivano sommersi, così montavano una motopompa. Il recupero fu difficile, in molti noi rimasero intossicati dall'esalazione della motopompa. Che cosa avete provato? Avevamo molta paura e angoscia. Non fu facile riconoscerli per noi, cercavamo a tutti i costi il corpo di un nostro collega, Augusto Randi. E temevamo che fosse ancora lì, ma fino a quando non fumo avvertiti che era stato trasferito a Budrio. Chi c'era nel posto? Ero inorridita e avevo paura, pensavo che mio fratello fosse morto. Avevo il terrore di perdere un familiare. Anch'io ero lì e temevo di essere chiamata per riconoscere mio figlio, ma non ce la feci, perché iniziai a piangere e credevo di essere sola. Quali erano i vostri sogni? I nostri sogni erano vivere una vita serena, senza guerre e senza odio. I nostri sogni erano avere una famiglia e educare i nostri figli secondo i valori che ci hanno spinto a lottare. Quali la libertà di pensiero e di parola che in Italia in quel periodo non erano rispettate? Qua abbiamo fatto un cartellone rappresentando appunto il posto e una scritta in inglese, morire con ricordi e non con sogni. La seconda domanda è se avreste voluto vivere in un'epoca diversa. No, sono stato fiero di vivere nella mia epoca perché è grazie al mio sacrificio che siete riusciti a costruire una società più libera e democratica. Sì, vorrei vivere nel ventunesimo secolo perché secondo me sarà un'epoca migliore con nuove tecnologie e meno conflitti. Quali sono stati gli ideali che vi hanno spinto a lottare contro la dittatura? I miei ideali erano quelli di mio padre e di mio nonno che mi hanno insegnato a combattere per ciò in cui credo e sono stati di grande ispirazione per me anche per aver combattuto la prima guerra mondiale. In questo cartellone è rappresentata una scritta in dialetto e il testo della canzone Bella Ciao appunto per i partigiani. La quarta domanda è vi pentite di essere stati partigiani? No, non mi pento e non mi pentirei mai e sicuramente lo rifarei perché sono morto ma almeno combattuto per liberare il mio paese. Mentre combattevamo per i nostri ideali avevamo paura di non riuscire a cambiare la situazione in Italia ma abbiamo capito che non si poteva vivere senza la libertà. Infine come ultima domanda se sareste stati in grado di perdonare chi vi ha ucciso? No, non perdonerei mai perché hanno tolto la vita a me e ad altri 15 ragazzi solamente per la nostra diversa ideologia. Non saprei perché sicuramente perdonando mi sentirei in pace con me stesso ma allo stesso tempo non lo ritengo giusto perché hanno tolto la vita a me e ad altri 15 ragazzi solo perché le nostre idee erano in contrasto con quelle dei dittatori. Sì, secondo me sarebbe la soluzione migliore per evitare un'infinita catena di odio e per mettere fine a questa vicenda. In quest'ultimo striscione mostriamo la pace e non la guerra, infatti la pace è un sogno e può diventare realtà.